Calcio, c'è ancora tempo per la riapertura del mercato, ma il DS della Pescara Daniele Delicari ha già posto l'obiettivo prioritario, il centrale, un centrale mancino proprio per l'infortunio corso a Pellacani, ebbene Delicari sta stringendo per il centrale slovacco Ivan Mesic. C'è il via libera del Nord Sieland, il club danese proprietario del cartellino, dal quale lo stesso Delicari prelevò 11 anni fa il danese Nielsen, uno dei protagonisti dell'irripetibile promozione in Atar Gatazeman, la formula del trasferimento acquisizione a titolo definitivo col 50% dell'eventuale rivendita futura del calciatore riconosciuto al Nord Sieland. Dal momento però non c'è ancora intesa totale tra il Pescara e Michal Cerni, agente di Ivan Mesic, la richiesta contratto sino al 30 giugno 2025, con opzione per l'anno successivo a determinate cifre in caso di promozione in B, a prescindere dalle presenze del difensore nel campionato in corso Delicari. Ha posto invece la seguente condizione, almeno 8 presenze da 45 minuti da gennaio sino al termine della stagione regolare, ovvero in 18 giornate. Nelle prossime ore la risposta del giovane calciatore attraverso il suo agente, la volontà di Mesic è un dato di fatto, sensazioni dunque positive, se sarà fumata bianca entro la prossima settimana Mesic sarà già a Pescara per iniziare gli allenamenti e ambientarsi nel migliore dei modi, il tesseramento ufficiale il 2 gennaio alla riapertura del mercato. Ivan Mesic, lo ricordiamo, ha giocato in prestito nell'Obs, Serie A norvegese, appena giunta al termine, stesse caratteristiche dell'infortunato Pellacani ma Mancino con una buona, buonissima anzi direi tecnica di base. Intanto la squadra dopo due giorni di riposo è tornata ad allenarsi questa mattina a Silvi Marina, in vista del posticipo sul campo della Turris, in programma lunedì prossimo 21 novembre con inizio alle 20.30, i Corallini sono in piena crisi, hanno ricimulato la miseria di due punti nelle ultime sei gare, peggiore difesa del Girone C con 25 reti al passivo, la vittoria della Turris manca dallo scorso 8 ottobre, 3 a 5 a Ponte Nera con il Monterosi in casa addirittura da due mesi, dal 14 settembre 2 a 1 sul Taranto, peraltro unica affermazione della Turris davanti al pubblico amico con David Di Michele subentrato a Padalino, un solo pareggio al 97esimo nel confronto interno con il Latina e ben 3 KO, Coppa Italia compresa. Resta in dubbio l'ex Trapani e Venezia Togurdo, torna invece a disposizione Giannone e Di Michele potrebbe optare per il 3-4-3, Giannone e Leonetti a supporto di uno tra Magnero e Santagnello. A proposito sono due gli ex, appunto Pippo Riccardo Magnero, 133 presenze e 43 gol, con la maglia del Delfino in circa 4 anni e mezzo di militanza e Paolo Frascatore, 33 presenze e 2 gol, lo scorso anno nella trasferta di Montevarchi contro appunto di Pontedera, per essere ancora più precisi con Montevarchi e poi nel giro di ritorno nella trasferta di Olbia. E' stato anche designato l'arbitro del match Turis-Pescara, Turis-Pescara sarà diretta questa partita da Mario Saia della sezione di Palermo che ha già arbitrato Foggia-Pescara 0-4 lo scorso 24 settembre. La curiosità, in questa stagione Saia ha arbitrato due partite del Gironi Cia, entrambe terminate 0-4, oltre a Foggia-Pescara anche Fidelis Andrea Catanzaro 0-4 appunto lo scorso 8 ottobre. Venerdì alle 14.30 test a Cugnoli, squadra di prima categoria, inizio alle 14.30 sul nuovo terreno di gioco intitolato a Pierpaolo Perna.